Buon pomeriggio amici e amici, come va? Come state? Spero tutto bene, ma prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Eh sì, sono Rauca anche oggi, prima che me lo chiedete, già ve l'ho detto io, oggi ho tanto sonno! Voi come siete messi a sonno, all'etargo? Io e la regista, parlo anche per te, malissimo, non ce la possiamo fare, abbiamo un sonno che basta a mezzo, benché stiamo anche dormendo, no? Di notte! Eh, sarà la neve! Eh, a parte l'altro giorno, che non vi ho neanche raccontato, è stato male, ma male, male, l'aiuto regista, che mi ha svegliato nel bel mezzo della notte, vomitando, poverino! E' arrivata come una catapulta a razzo missile, la regista, ha fatto 3, 2, 1, partenza Formula 1, perché mi ha sentito allarmata, perché purtroppo stava male, quindi stava rimettendo tantissimo, e a me quando rimettono mi vanno così peccato, poverini, mi dispiace tantissimo, ero molto dispiaciuta e si è sentito che stavo appunto parlando a voce altissima, e la regista si è catapultata, perché lei è un po' la dottoressa qua, arriva sempre quando stanno male, ma il turno notturno non era mai capitato. No, infatti, perché di solito io non ho il sogno, non ho il sogno proprio leggerissimo. Però mi hai sentito, mi hai sentito allarmata, mi hai sentito allarmata. No, ma non ho neanche sentito proprio, mi sono alzata di scatto. Eh, perché ha fatto tutto un brutto rumore quando si è sentito male, lui, che tra l'altro, poverino... Benché stessimo dormendo comunque da un po'. Eh, sì, 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 però si vede che stava proprio male, ha fatto, sì, rumore, poi non ha fatto in tempo andare in bagno, e quindi mi lascio immaginare come poi mi sono divertita a pulire, ma questo è la mansione di noi mamme, e la regista giustamente, cioè, è scappata, però ha aiutato nel senso almeno a dirgli alzati, perché se no non usciva dal letto, continuava a vomitare. Diciamo che l'esito è stato quello di alzarmi, soprattutto per vedere, perché non sapevo neanche quello che stava succedendo. Poi quando ho visto cosa stava succedendo, ha fatto così, e si è girata, giustamente. Invece, la mamma, gli tocca andare lì, intervenire sul posto e pulire, bellissimo, divertentissimo, ma ok. E quindi, poi diciamo che era un po', ecco, quella notte sì, che era un paio di notti fa, poi ho dormito male nel dormiveglia, perché avevo paura che si sentisse male di nuovo, e avevo paura di dormire troppo profondamente e non sentirlo, e quindi non ho dormito. Ogni cinque minuti ero sveglia, che andavo a controllare come stava. E' una cosa curiosissima, e sì, che noi mamme abbiamo appunto da sempre, no, questo istinto di controllare i cucciolini, diciamo così, i nostri piccolini, quando stanno bene, quando sono piccolini, ci svegliamo, io penso un po' tutte le mamme, ci svegliamo tante volte per andare a vederli, e quei giorni che stanno male, ci torna fuori quell'istinto, no, di controllare il nostro piccolo, anche se appunto, voi sapete che l'aiuto regista comunque è dieci anni, però per me è sempre piccolo, ma piccolissimo proprio, e quindi comunque, soprattutto quando sta male, mi sveglio, ma chiunque di loro, quando sta male, mi sveglio e vado a controllare, a vedere insomma se va tutto bene, se sta bene, che comunque lo so che se stanno male si sente ampiamente, però insomma, meglio buttare un occhio in più e un orecchio in più, non fa mai male, quindi due, tre giri, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, avanti e indietro, e così è passata l'annottata, però va bene, dai. Noi mamme facciamo volentieri e senza aspettarci nulla, in cambio, e il nostro bigliettino cosa ci dice invece? Gesti di cortesia. Quei gesti di cortesia, che non sono quelli delle mamme, perché sono tutta un'altra cosa i gesti di cortesia, io intendo quei gesti quando c'è, vi dicevo stamattina nel voiceover, per esempio, scusate, una persona di una certa età, una mamma in attesa, no? Con la pancia, con la pancina, una mamma con un bimbo, no? Piccolo o piccolissimo, che giustamente, no? Oppure anche una persona in difficoltà, che non sta bene, sul pulma la dobbiamo far sedere. Questo è un gesto di cortesia. Tu che stai bene, io che sto bene, mi alzo e do il posto a quella persona, senza neanche stare a guardare troppo intorno, eh ma nessuno glielo dà. Io intanto faccio il mio, no? Non sto troppo a pensare, mi aspettava lui, mi aspettava lei, ma perché a quell'altro non gli ha dato il suo posto. Io intanto faccio il mio dovere, anche se, devo dire la sincera verità, quando sono stata io, per esempio, in dolce attesa, oppure anche con un bimbo piccolo in braccio, piccolo intendo tipo magari sei mesi, un anno, quando proprio sono piccolini e ancora non camminano, la mamma li deve tenere magari in braccio, e sul mezzo pubblico va male, no? Col bambino in braccio, assolutamente anche pericoloso. Io devo dire che... Non ho riuscito a dirti. Infatti, devo dire che da quel lato lì sono molto fortunata, e sono stata molto fortunata, perché abitando anche in una città piccolina, diciamo così, dove non ci sono, per il trasporto interno parlo, mezzi pubblici da usare, io sempre, ecco, diciamo così, ho avuto la possibilità di avere la macchina, seppur io non abbia una macchina, no? da 200.000 euro una macchina che ha 20 anni, ma che per fortuna cammina, e quindi quello è l'importante, che sia sicura, in sicurezza, che non abbia problemi, e che cammini, no? Questo è l'indispensabile delle macchine, dal mio punto di vista, non mi interessa né il brand, se vogliamo chiamarlo così, né che sia stranuova, e neanche il colore, sinceramente, poi ogni tanto, magari mi è capitato due o tre volte di vedere una macchina tipo rosa antico, si dico la sincera verità, mi sono girata, ma, poi vabbè, lascia lì, no? Finisce tutto lì, lascia un po' lì, il tempo che trova, per me, il colore della carrozzeria, però dico, avendo avuto la fortuna, di abitare comunque, non in una città grandissima, potevo spostarmi in sicurezza, con la mia prima figlia, con la mia prima e il secondo figlio, con la mia prima figlia, secondo e terzo figlio, posizionandoli tutti in sicurezza, in macchina, senza dover avere la scocciatura, anche di magari, sali il passeggino in pullman, scendi, no? Dai mezzi, quelle sì che sono cose, comunque anche, che richiedono un sacco di energie, di concentrazione, non è facile, non ti aiuta manco un cane, magari, no? Salire i passeggini, e sono dolori, sono dolori, quelle sono cose complicate, e tanto più, treni, non ne parliamo assolutamente, io terrorizzata, certo, avendone magari, se avessi avuto l'esigenza indispensabile, di dovermi spostare in aereo, in treno, in pullman, l'avrei fatto come tutti, ma, no, non l'ho fatto, perché in realtà, lavoro abbastanza vicino a casa, tutto quello che mi serve, è nei pressi di casa, o comunque, se mi sposto, anche a una trentina di chilometri, faccio ipotesi, comunque, mi sposto con la mia macchina, non ho avuto bisogno, dei mezzi pubblici, non mi sono spostata in aereo, perché non ne avevo la necessità, e, quando sono andata, per esempio, in vacanza d'estate, al mare, mi sono spostata, ugualmente, in macchina, e in più, anche col marito, quindi, ancora più, diciamo, confortevole, anche perché io, vi dico la sincera verità, adesso, non, mi aggredite, no, se così si può dire, nei commenti, però, lasciatemela dire, questa cosa, io se c'è lui, ma io me ne frego, di guidare, se sta bene, io lascio che guidi lui, e io, mi faccio portare, come una principessa, mi metto anche la scarpa, quella un po' più scomoda, che non utilizzo, quando guido, io, e sto là, così, e lascio che il mio, sì, stavo dicendo, il mio principe, mi porti, non al ballo, perché al ballo non ci andiamo, mi porti a fare la spesa al supermercato, magari, oppure, che ne so, a fare una colazione in pasticceria, a mangiare una pizza, però, mi lascio, ecco, coccolare, in questa maniera, qua, non lo so se è giusto, magari io dovrei propormi, di più, e dire, guido io, però, io faccio già tante altre cose, e secondo me, quello, ecco, non mi va di farlo, lo faccio sempre, quando non c'è lui, no, mi porto avanti e indietro, di qua, di là, no, a far tutto quello che c'è da fare, tutto quello che deve fare, una mamma, una mamma che lavora, e quindi, sì, eccomi, se c'è la possibilità, e lui può, perché sta bene, se guida, sono contenta, lo dico veramente, proprio col cuore in mano, sincera e onesta, se è certo, se sta male, e dobbiamo per forza andare da qualche parte, ho nessunissimo problema, guido anche io, però, insomma, se invece sta bene, lo lascio guida, così, io sto tranquilla, mi sento proprio rilassata, e mi metto anche le scarpe scomode, se, ovviamente, non si sa mai, però, nel sedile sotto, mi porto sempre un paio di scarpe, tipo, da ginnastica, comode, che nel caso, non si sa mai, ci dovesse essere la necessità, che io debba guidare, non devo guidare con le scarpe, col tacco scomodo, che poi si rovinano anche, e quindi, in quel caso, non mi è mai successo, però io mi porto sempre una piccola busta di cotone ecologico, con dentro un paio di scarpe da ginnastica, che piazzo, tac, sotto il sedile, se mi servono, e tra l'altro, nella mia macchina, questo quando sono nella macchina con lui, invece, nella mia macchina, le ho sempre, un paio di scarpe da ginnastica, extra, perché non si sa mai, che non mi si rompa una scarpa, di quelle che ho nei piedi, un laccio, chissà che, non voglio trovarmi assolutamente, nella triste condizione, di non poter guidare, quindi, sempre, no, un paio di scarpe, sotto di scorta, ma questo, da sempre, da quando ho preso la patente per sicurezza, infatti, quando sale qualche mio amico in macchina, mi dice, ma cos'hai le scarpe per gli ospiti, no, è per me, se mai mi servono per guidare, e non si sa mai, e poi, se voi non sapete l'equipaggiamento, che ho io in macchina, perché ho sempre, i monbut, nel cofano, quelli non si tolgono mai, sono un evergreen, quando mi hanno fermato, al posto di blocco, e mi hanno guardato la macchina, hanno controllato, perché sapete che, quando fanno i controlli, controllano un po' tutta la macchina, me l'hanno controllata, che era a luglio, aprono il cofano, e guardano, ma signora, ma che cos'è, mi fanno, e c'avevo la pala da neve, ve l'avevo detto, piegata, quelle pieghevoli, che si piegano in tre, e mi vanno, ma cos'è questa, e gli ho detto, la pala da neve, a luglio, mi fanno loro, e io gli ho detto, ma, sa cosa c'è, ho, sono una mamma, ho paura di dimenticarmi, e quindi, da mamma un po', magari, che si può dimenticare, di tre figli, lo so, questa non è una scusante, però a volte, si è stanche, e se lo si è, bisogna dire, no, quali sono, i punti deboli, e quindi, io l'ho detto, ho paura di dimenticarmi, di mettere, quando è ora, le catene, la pala da neve, e i monbut, e quindi, questi io li tengo, tutto l'anno, tanto rovinare, non si rovinano, e li ho là, quando arriva la neve, sono già tranquilla, non li devo mettere, perché li ho tutto l'anno, e in più, nel mio kit, che io chiamo, kit di sopravvivenza, per il maltempo, ho una giacca, in una, anzi, più che una giacca, ho un piumino invernale, lungo, super, super bardato, nero, che non andrò, in panico, a pulito, che non andrò, in panico, a utilizzare, qualora io debba, montare le catene da neve, nella macchina, perché manca mai, che quel giorno lì, che tu sei in giro, all'improvviso, fa tanta neve, devi mettere le catene, e hai la giacca bianca, non lo fate, cioè, procuratevi qualcosa, sempre da tenere in macchina, perché la giacca bianca, rischiate di sporcarla, e sporcarla, talmente tanto, da macchiarla, quindi, io ho questa, giacca di emergenza, un piumino, che tengo molto caldo, che ho schiacciato bene, in un sacchetto, facendolo diventare, diciamo, il più piccolo possibile, tengo lì di emergenza, con anche, aspettate che non è finito, l'equipaggiamento, anche un cappellino, di quelli da neve, ma col para orecchie, lungo, con il clip qua sotto, e il, sì, non so se, come si chiamano, tipo avviatore, che dentro è tutto, pelo, 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 ma proprio tutto imbottito, che ha il copri orecchie, incorporato, si aggancia qua sotto, così, a tipo caschetto, che se c'è molta neve, molto vento, non mi si sposta, e mi rimane anche la visiera, un po' così, se la mollo, e quindi, tu puoi lavorare, fare quello che devi, in comodità, e guanti neri, grossi, termici, e comodi, per poter poi, agevolmente, toccare, senza tagliarti, senza sporcarti, perché se no, mi ci rimetto, io non ho le unghie, diciamo, eccessivamente lunghe, sono le mie, però, sinceramente, se mi rimane, accancarata, sotto a una catena, ci rimango male, invece, con quelli, ho anche più forza, tirare, non rischio di farmi male, soprattutto, non avere le mani ghiacciate, aiuta a lavorare, meglio e più velocemente, una grossa torcia, per anche, farmi luce, se avessi necessità, di montare catene, in una zona buia, perché non si sa mai, quando capita, capita, no? in montagna, e quindi, bisogna essere, equipaggiati bene, non intralciare, ma è traffico, ma non so, perché siamo finiti a parlare, del mio cofano? Perché hai parlato del marito, del gesto di cortesia, per il mondo. Ok, questo è l'equipaggiamento, e una miriade di ombrelli, anche per gli ospiti, quelli, sempre, 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 quindi, questo è l'equipaggiamento, della mia macchina, quindi, tanti gesti di cortesia, tornando ai nostri gesti di cortesia, che non fanno mai male, anche far passare alla cassa, se c'è qualcuno in difficoltà, che non vuole stare in piedi, c'è l'occhio vigile, e lo facciamo passare, tanto non sono quei dieci secondi, no? Prima o dopo, che ci fanno la differenza, secondo me, è una cosa molto carina, raccontavo stamattina, di una signora, che mi ha chiesto, delle indicazioni, su dove fosse, un articolo, di alimentare al supermercato, mi è successo, tipo due settimane fa, questa cosa, e io, glielo, non lavoro al supermercato, però, lei mi ha chiesto a me, perché in quel momento, non si trovavano, nelle corsie, e questa signora, mi ha chiesto, se la potevo aiutare, a dirle dove era un prodotto, io l'ho aiutata, e mi ha ringraziata, sul momento, ma mi ha ringraziata, anche dopo, quando mi ha incontrato, di nuovo in giro, e mi ha detto, che nessuno, aveva chiesto anche, ad altre persone, l'avevano tipo mandata, e io invece, ero stata così gentile, anche a far vedere, che ero contenta, di aiutarla, non solo l'ho aiutata, ma io gli ho detto, sì che nessun problema, anzi ero contentissima, così ho parlato un attimo, con questa signora, gli ho pure detto, se quello stava cercando, mi piaceva, oppure no, perché me l'ha chiesto, mi ha detto, che non l'aveva mai provato, ed era curiosa, mi ha detto, ma lei lo conosce buono, allora io gli ho detto, sì questo, perché poi ho provato, anche quell'altro, ma non mi piaceva tanto, e questo invece, mi è piaciuto, questo era tutta contenta, questa signora, ed era super super carina, e allora sì, alla fine, è un gesto di cortesia, che non costa veramente nulla, facciamoli, perché sono una miria, dei gesti di cortesia, che possiamo fare, ed è bellissimo, se vediamo invece, che c'è qualcuno, che si approfitta, e ci vuole prendere un dito, e tutto il braccio, allora lì, noi retrocediamo un attimino, e torniamo nei ranghi, ok? Palettiamo, come abbiamo detto l'altro giorno, ci palettiamo, la nostra comfort zone, detto questo, io aspetto, voi nei commenti, fatemi sapere, cosa ne pensate, di tutto questo discorso, quale sono, tutte le vostre opinioni, e soprattutto, mi raccomando, come vi dicevo stamattina, fatemi sapere, qual è stato, l'ultimo gesto di cortesia, che avete fatto, in questo periodo, no? Perché io sono sicura, che tanti di noi, hanno fatto, tanti gesti di cortesia, ah, un gesto di cortesia, mio, da poco, è stato anche, verso una signora, che cercava un pollo, questa signora, cercava il pollo, io stavo prendendo, le patate, patatine cotte, e ha detto, oh no, spero che non prenda il pollo, io non dovevo prendere il pollo, sinceramente, e allora, mentre prendevo le patate, io gli ho detto, perché mia caglia, gli ho detto, no ma stia tranquilla, io non devo assolutamente, prendere il pollo, rimane là per lei, io sto solo prendendo, le patate, ah grazie, 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 ma non è che gli ho risposto, sgarbatamente, perché non ce n'era motivo, l'ho tranquillizzata, e subito dopo di me, ho visto che ha preso, insomma, quello che le serviva, io però dovevo prendere, queste patatine tipo, al forno erano, e mi servivano quelle, ho preso quelle, e diciamo, che se mi avesse detto, mi lasci, anche quello mi è successo, ma un po' di mesi fa, stavo prendendo, sempre le patatine, al forno, che a noi ci piacciono tanto, io quel giorno lì, non avevo tempo di farle, perché uscivo veloce dal lavoro, dovevo andare, a diciamo, intavolare la cena, e stavo prendendo, delle patate al forno, e la signora dopo, mi ha detto, se ne lasciavo un po', che erano la sua cena, e io ho detto, ma ci mancherebbe, certo, e non me le sono fatte dare tutte, e le ho detto a lei, quante ne voleva, ce le siamo fatte, diciamo, smezzare, però magari un altro, gli avrebbe detto, che tardi arriva, ma le alloggia, perché una volta, mi è successo, di sentire questa frase, da una che gli aveva chiesto, la stessa cortesia, e le ha risposto, se lo volevi, venivi prima, e aggiunge un po', sta tavola, che c'è un amico in più, non gliene fraga niente, a questi, è un po' scortesia, eh sì, brutto, 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 però si sentono, anche queste cose, a me sinceramente, non mi è costato, assolutamente nulla, e io con tutto il cuore, gli ho lasciato, quelle patatine lì, anzi, le avrei anche pagate, lasciate pagate alla cassa, se si poteva, perché, adesso, non che io possa, no? Nel senso a tutti, pagare la spesa, quello no, però, ecco, no? Se c'è qualcuno in difficoltà, che ha bisogno, in tutti i sensi, noi, quello che possiamo, lo dovremmo fare, per avere un mondo migliore, no? Sarebbe bello far così, e, di più, se è fatto col cuore, perché se non è fatto col cuore, non lo fate, perché non serve a nulla, non serve, non serve assolutamente a nulla, a nessuno, neanche a quella persona, che gli fate il gesto, se non è fatto con benevolenza, anche perché poi uno non lo capisce, se è fatto perché, uno lo vuole fare, oppure se è tanto per, sì, se le cose fatte tanto per, a me mi urtano, mi fanno venire anche un punto di nausea molto alto, ok? Un punto di nausea molto alto, vi lascio immaginare, ok? E quindi, mi urta tantissimo, io oggi che faccio così, con i capelli, che non sono abituata a averli sciolti, tra l'altro, io, sale pepe amiche, con questi capelli bianchi qua davanti, però, ne li devo assolutamente, devo assolutamente fare la tinta, ma non c'ho voglia, quindi mi prendete così, la streghetta in tutti i sensi, con un po' di capello bianco, tra l'altro, fanno anche schifo, perché, secondo me, sono tipo olio su tela, oggi li devo assolutamente lavare, ma sono solo due giorni che li ho lavati, quindi penso che si tratti un po' di stress, e di mani, che forse me le tocco tanto, già ne perdo, mi fanno, tocco i pennelli qua di fianco, ogni tre secondi, con la mano, mi viene un po' l'ansia, in tutti i sensi, con questi capelli, non capisco, perché a me ne, mi sembra che ne sto perdendo tanti, ma la regista dice che ne abbiamo ancora, capelli in testa, io però me ne sento, no? Cioè, me li sento che li ho, ma ne perdo, eh sì sì, eh non lo so, li taglio, ho deciso che taglio un altro pezzettino, come mi avete detto voi, senza esagerare, magari così, ecco, massimo, facciamo, poi vedete con i capelli a qua, vuol dire che li ho tagliati troppo, ok, passiamo al quizzettone, certo, quizzettone, cartoonoso di oggi, perché abbiamo la regista, che ci morde le caviglie per i tempi, ok, perché sennò dice che sforiamo in troppa lunghezza, e l'algoritmo probabilmente non ci amerà, no? Però ci amano le nostre amiche e i nostri amici, che li facciamo compagnia con i giorni, sì, ma te l'ho detto adesso perché, per non dimenticarci, ok, perché pensavo che avessi quasi finito, però se non è finito, sì sì, no 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 no, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo argomento, quizzettone cartoonoso di oggi, ieri, chi avevamo, avevamo, ce l'abbiamo qua, sul telefono, Nami Ayase, e voi siete stati bravissimi, mi avete indovinato subito, Nami Ayase ha recitato in, Mila e Shiro, bellissimo questo cartone animato, mi si è tolto, ma già ho perso Nami Ayase, dov'è? Mila e Shiro, due cuori nella palla a volo, e da dove sto leggendo le informazioni? da Wikipedia, che è la nostra fonte di informazione preferita di questo ultimo periodo, Mila e Shiro, bellissimo, bellissimo, innanzitutto super divertente, è un cartone animato, perché dice due cuori nella palla a volo, perché sia Mila, sia Shiro, giocavano tutti e due a palla a volo, erano così carini, e Mila era così piena di energia, un po' pazzarella come l'avete descritta anche voi nei commenti, saluto la nostra amica che è sempre super super brava, lei indovina subito, con me anche altre due nostre amiche che sono velocissime, le sanno tutte, dovremmo fare, tipo ve lo ricordate Sara Banda con, indovinavano le canzoni? A noi ci dovrebbero fare Sara Banda, per indovinare cartoni animati, personaggi in 3, 2, 1, e fare le sfide con quelli più forti, no? Ma da quanto sarebbe Togo? Secondo me tante di noi si piazzerebbero tipo nel podio, di quelle più veloci, e gli faremo fare bancarrotta quel programma, perché indovineremo sempre tutto, no? Diventeremo tipo là col pulsantone, io me l'è vero, no? Bravissime e ferratissime, quindi siete state bravissime anche con Nami Aya, Nami Aya, chi è Nami Aya? Allora, Nami Aya, all'inizio della serie, è titolare della squadra di pallavolo, della scuola Ikawa, all'inizio odia Mila, questa parola molto forte, che ricorreva tanto nei nostri cartoni animati, no? Brutta, a me questa parola non mi piace, non la vorrei sentire mai più, comunque, Nami è scontrosa e acida, col tempo si rivela dolce e buona sensibile, e si affezionerà a Mila, diventandone una delle sue migliori amiche, specialista della difesa, gioca come ricevitrice, ma sa anche finalizzare bene il retto, inoltre possiede un ottimo servizio, la battuta a volo di Ronnine, ma quanto ci emozionava la battuta a volo di Ronnine, io che sognavo di giocare a pallavolo, invece a pallavolo le prendevo tutte qua, in fronte, io che provavo e non beccavo nemmeno il pallone, io quando provavo a schiacciare, no? La pallonata, di così, oppure mi diceva il professore, prova anche così, dai che ce la fai, no no, manco lo beccavo, io tiravo il pallone, e poi se per caso lo beccavo, il pallone invece di andare dritto andava di là, quindi, no, io veramente, è una roba schifosa a pallavolo, sapete che mi sono fatta male anche contro il muro, non so se l'avevo detto, mi aveva ammesso, perché mi facevo male giocando a pallavolo, e mi aveva detto, se che c'è, gioca contro il muro, e io, ma come che vergogna, e vabbè, vergogna o no, provaci, ci provo, e mi sono venuti a soccorrere, mi sono dato un rinculo di pallonata, da sola contro il muro, mi sono autostecchita per terra, così, mi hanno trovata tramortita, mi hanno detto, ma che è successo, ma non lo so, mi è arrivata una pallonata, non ho visto più nulla, e il professore mi ha detto, io l'ho vista io, quando ti è arrivata, te la sei autodata, e io, ma non è possibile, che tonta, il muro te l'ha data, il muro me la dà, ma quel muro lì, quanto scorretto era nei miei confronti, eh? Comunque, anche a distanza di anni, io non capisco come possa essere una così scarsa, in pallavolo, non in a pallavolo, invece, la regista, cosa ne pensa? Pensava che io fossi super mega atletica? Beh, questo lo sapevo già, perché l'avevi già raccontato, eh sì, proprio, una wabregunja, wabregunja, vediamo qua, se ci dice anche qualcos'altro, o no, la sua caratteristica era la battuta a volo di rondine, quindi, molto togo il personaggio di Nami, a Yasa e loro, tutte iconiche e bravissime a pallavolo, io manco per niente, invece, il personaggio di oggi, da indovinare, pronte, amiche e amici, via i pulsantoni, subito a scrivere i commenti, dove ha recitato, Phyllis, Pizza's Gabber, detta pizza, qua hanno indovinato tutto, pizza, eh sì, era conosciuta come pizza, nel cartone, nel film dove recitava, nel, come lo possiamo definire, il nostro film cartunoso, ecco, perché per me non erano cartoni, ma erano film da grandi, quando ero piccola, erano i programmi quelli belli, e si chiamava pizza, in realtà il suo nome, nel cartone, Phyllis Pizza's Gabber, ok, speriamo di averlo pronunciato corretto, detta pizza, ok, molto toco, io sono sicura, che state già indovinando, perché è super super facile, tra l'altro, siete stati voi, a dirmi il nome di questo personaggio, qualche settimana fa, inizi, spoiler, 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 e ora direi, che passiamo subito, al prodotto make up, di oggi, noi, che stiamo amando, le power puff girl, dette super chic, mi sta arrivando, uno starnuto, super sonico, ma lo mandiamo indietro, perché noi, non abbiamo mica tempo, di starnutire, ok, infatti non ho starnutire, non hai neanche fatto l'espressione, prima di starnutire, no, perché non ho tempo, di starnutire adesso, non ho voglia, di starnutire, ma mi cola tutto il trucco, allora, questo prodotto, ce l'ha dato la regista, non ho idea di cosa sia, adesso lo apriamo, e capiamo, è sempre delle power puff girl, e fin là, ce l'ho arrivata, ma non è di una in particolare, e cos'è, il gel per capelli, delle power puff girl, sì, non è che di un personaggio, solo, questo è un po' generico per tutte, perché è un po' tutto, colorato, il piccolo spoiler, è quasi l'ultimo di tutta la box, oh no, allora nell'ultimo, facciamo tipo il repilogo, e tiriamo fuori finalmente la box, se volete vedere gli altri prodotti, perché adesso sono un numero un po' lunghino, non sto a quelli, in carli tutti, basta che scrivete, tipo unbox power puff girl, e vi vengono fuori tutti i nostri unbox, cioè posso fare delle power puff, ok, e li recuperate, ci sono palette, lip gloss, fascette skin care, eccetera, 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 perché è illuminanti, blush, un po' di tutto, un po' di tutto, e questo che cos'è, il gel per capelli, proviamo a vedere, ma che cos'è un po' così, è chiuso, dovrebbe esserci scritto, comunque, c'è scritto, non lo sto vedendo, ma lo cercherò, ah, lip care, quindi è un lip balm, tipo, proviamo ad aprire, si chiama, ah, c'è scritto qua fuori, save, the day, lip care, e ora facciamo partire il mitico pao, quindi, perché è sigillato, vado, momento ansia del pao, tan, ma che bello, come la rispettavo, no, ma questo non si può usare, peccato, è una caramellina, non so, non sento, lo facciamo annusare alla regista, che bellino, che bellitudine, è un dolcetto molto, vaniglietto, sì, ma molto delicato, ma io ora, devo rovinarlo col dito, guardate che se lo swatchi, non so che cosa è, cosa swatcho, nulla, non swatchiamo nulla, lo proviamo, sembra quasi una meringhetta, ma siccome il pao è partito, lo dovremmo usare, ma com'è cute, ma è così bellino, non sembrava da fuori, si sono rimasta di stucco, eh sì, guarda, cioè è tutto lineare, molto, semplice, no, nel pack, e dentro, ma vabbè, questo è bellissimo da regalare, alle amiche, agli amici, a Natale, io mi aspettavo che fosse liscio, che bellino, infatti, anch'io me lo aspettavo straliscio, è bellissimo, fatemi vedere il pao di quant'è, che io ho l'ansia del pao, 12 mesi, 12 mesi, sapete che per le ombretti, diciamo che me ne frego un po' di più, nel senso, guardo se è cambiata la formulazione, se è cambiato il colore, non si sa mai che non abbiano fatto qualche muffetta, ma se non avete problemi di umidità, è molto difficile, che gli ombretti facciano la muffa, a meno che non li teniate, tipo in un luogo vicino alla cucina, dove cucinate la pasta, vicino al bagno dove vi fate le docce, quindi dove c'è più umidità, eh sì, dove c'è più umidità, io diciamo che li tengo, se qua, dove registriamo, che è lontano innanzitutto dalla cucina, perché siamo su due piani, quindi sono lontana, anni luce dalla padella, che fa bollire la pasta, e cuoce le verdure, e abbiamo, sì, la doccia sia al piano di sotto, che nel piano, che però, se in questo piano sta dall'altra parte, quindi non è che sia proprio vicinissima, dall'altra parte, diciamo, del piano, non è enorme, però insomma, è sempre, non di fianco alla make-up collection, questo, quindi agevola tantissimo, che il make-up rimanga in buono stato, soprattutto, vi devo dire, se non abitate in posti, dove fa eccessivamente caldo d'estate, è meglio, per il make-up, io, in montagna, sapete che lo soffro, sia io che il mio make-up, quindi, qua fa sempre fresco, quindi d'estate, non raggiungiamo, chissà che temperature, alte, d'inverno, non le raggiungiamo basse, perché non è che vogliamo congelarci, diventare ghiacciolini, quindi, più o meno la temperatura, e non è mai esagerata, perché comunque, sono appunto, questi trucchi, nella zona notte, dove non si deve fare, io raccomando sempre, per un quieto, vivere e dormire meglio, né non avere troppi gradi, nella zona notte, dove si dorme, perché si dorme meglio, no? Ci si copre, con un bel piuminetto, e si sta meglio. Sì, avere un'ora di mezzo, neanche congelarsi, neanche ghiacciolini, mi raccomando, però, neanche caldo africano, no? No, infatti. Come si dice? No, l'anticiclone delle azzorre. Già, secondo me, 23-24 gradi, è già caldino. Sì, secondo me, per dormire, non vorrei dire, 20, così, andrebbe bene, perché 19 è già un po' ghiacciolino, 18-19, siamo già in ghiacciolandia, una ventina di gradi, secondo me, sarebbe la perfezione, per dormire, forse anche 19, non di meno, non di più di 20, diciamo, 19-20 gradi, fatemi sapere cosa ne pensate, se voi, per dormire, volete il caldo africano. Ma io sento molte persone che dicono che quando dormono hanno caldo, cioè che tipo durante la notte si riscaldano, ma a me succede, cioè che nel senso che poi durante la notte si svegliano perché hanno caldo, ma a me succede il contrario. Sì, io invece io mi ghiaccio di notte. Tendenzialmente vado anch'io in ghiacciolandia, vado in super mega a risparmio. ma mi sveglio con le mani fredde proprio. Vado in super mega a risparmio energetico, non spendo in calore energia del mio corpo e vado in modalità al raffreddamento. Cioè se io mi scopro di notte, cioè che noi comunque non abbiamo freddo, ma se per caso mi va via diciamo il po' che apri piumino, il piumone insomma, mi sfreddo. Eh sì? Mi ghiaccio, diventa un ghiacciolino. E non è freddo, non pensate che faccio dormire una ventina di gradi che faccio dormire alla registra a ghiacciolandia. No, ma proprio io, perché poi gli altri non abbiamo freddo cioè in generale. Un po' strano. Un po' così sì, poi non lo so, bisognerebbe controllare se è 20-21, perché non vorrei che poi ci dicono che ti ghiaccio, eh. Si sta bene, si sta bene. No, ma si sta bene, sono io che durante la notte. Sennò qua, sennò al limite venite qua a controllare e vi facciamo sentire la temperatura. No, ma era perché io così, ma... Allora, invece tornando al nostro bellissimo, cioè mi sembra un dolciato un po' natalizio, un po' pasquale per i colori, ma anche molto caramellina di Natale. Io, bellissimo questo, non smetterei mai di guardarlo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Il prezzo, più o meno, sarà intorno ai 3 euro, penso, no? Di questo. Non so perché nella box, ma bisogna circa 2,53 euro, non penso di più. ok, è molto molto carino, bellissimo da regalare, lo proveremo nei video make-up della mattina, sapete che faccio sempre lo step lip care insieme a voi e quindi anche questo lo proveremo, sicuramente già domani mattina, non so se ho il coraggio, forse mi prendo quello che c'è qua su, già ve lo dico, che tanto è appiccicato qua e allora lo limo, no? Che dici? Disco questo prima per non toccarlo, mi dispiace un po' rovinarlo, però insomma mi avete insegnato anche voi che meglio che parte il PAO completo e il prodotto è ancora integro, bisogna utilizzare le cose, godersele intanto che sono buone e utilizzabili. Quindi lo proveremo insieme, fatemi sapere se il pack vi piace, cosa ne pensate e io direi che la parola segreta di oggi è spirale caramellata, ti piace? O vortice caramellato? Forse vortice è più bello e poi come emoji o girandola? Eh, a me mi stava venendo in mente girandola, sì, sì, dimmi. Come emoji a me stava venendo in mente o quella del lecca lecca anche? Tipo ho fatto un po' così che tira ah sì, carino o quella della girandola o non so che altro allora scegliete voi se vi piace di più l'emoji della girandola delle lecca lecca e come invece parola segreta io direi girandola caramellata, ok? mi raccomando girandola caramellata come parola segreta nei commenti super carina bellissima è uno dei lip balm più belli che ho visto perché è bellissimo forse se le avessero messe loro disegnate qua sarei stata anche più felice però è bellissimo io non ho un'altra parola per descrivere l'estetica speriamo anche che sia idratante se avessero messo l'SPF sarebbe stato bellissimo ma non lo sto vedendo però magari a controllare non si può neanche pretendere più di tanto però si dici già è bellino però insomma dato che c'erano magari un SPF sarebbe stato proprio iconico però è carinissimo da regalare anche a Natale con questo è fatto fate un figurone piccolo pacchettino li appendete sotto l'albero tra l'altro guardate fate così allora lo rimetto nella scatolina fate passare il filo qua dentro e poi li appendete all'albero come fossero delle palline poi quando le vostre amiche e i vostri amici vengono a trovarvi a Natale tirate giù e glielo regalate con un piccolo prezzo hanno un prodottino che comunque secondo me è sia utile che carino fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io direi che siamo state super velocissime abbiamo detto tutto 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 non so se la regista vuole aggiungere qualcosa no no allora siamo già arrivati alla fine del nostro video come sempre vi ricordo di lasciarci un like a forma di girandola se questo video vi è piaciuto e vi ha tenuto anche un pochino di compagnia mi raccomando scrivete tutto quello che volete nei commenti che volete raccontarci e che volete condividere con noi e come sempre condividete il video con tutte le amiche e gli amici amanti del make up della skin care e delle chiacchiere in compagnia e se non siete iscritte e iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi l'iscrizione ovviamente è gratuita e come dico sempre io c'era mancai altra cosa e come sempre vi mandiamo un bacio grande 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 e ci vediamo nel prossimo video mi raccomando fate le brave e i bravi e cosa vi dico sempre di super importante abbiate sempre cura di voi e Grazie a tutti.